Buongiorno a tutti, siamo nuovamente felici, felicissimi. È dal 1995 che non si verificava un 3 su 3, cioè 3 puntate su 3, sopra il 60% di share. E quindi è un'ulteriore, diciamo, conferma, lo dicevamo ieri e l'altro ieri ancora, della bellezza di questo festival che ha momenti meravigliosi, di grande qualità, di grande livello, di grande emozione. 10 milioni di ascoltatori ieri sera lo dimostrano, le differenze rispetto all'anno scorso, insomma tutto all'approfondimento sui dati con maggiori dettagli, tra poco a cura della dottoressa Lucca. Ci tenevo a evidenziare molto brevemente, proprio per non perdere tempo e non dare, togliere spazio, scusate, alle vostre domande, ancora una conferma sul, come dire, l'età veramente giovane, l'età media giovane di questo festival. Il pubblico 25-34enne ieri ha sfiorato ancora, ha superato ancora il 70% di share, con una crescita significativa rispetto all'anno scorso. In particolare voglio dire il pubblico femminile, che ha superato il 74% di share. E poi non dimentichiamo, anzi sottolineiamolo molto, con grande enfasi, l'ottimo, bellissimo risultato di Viva Rai 2 e Viva Sanremo, che con Rosario e tutto il suo team, con Fiorello e tutto il suo team, ha raggiunto il 58% di share ieri sera, superando i 2 milioni e mezzo, 2 milioni e mezzo di ascoltatori, sostanzialmente all'una e mezza di notte o giù di lì, in sostanza, quindi, o del mattino. Volevo, ripeto, ancora una volta sottolineare quanto questo festival sia crescendo nella fruizione digitale. E' una conferma ormai direi quasi scontata, però io vorrei sottolinearla perché indubbiamente sta cambiando moltissimo la fruizione della televisione in generale. Questo festival evidentemente lo dimostra con forza, con estrema forza. Roberta poi ci darà ancora, diciamo, ulteriori dati che confermano questa linea, più altri approfondimenti e curiosità.